Le caratteristiche di Mosia Tresigallo secondo me dovrebbero essere il colore, vedo io che Tresigallo è un paese colorato e mi piace pensare che Mosia sia un film colorato. Direi che parte tutto dall'edificio Solu, del quale sono venuta a conoscenza in un secondo momento. Inizialmente a me interessava l'architettura razionale accostata alla pianura del paesaggio. Quindi ho deciso di fare un po' di ricerca qui partendo da Modena, dal cimitero di San Catallo di Aldorossi e poi imbattendo mentre Tresigallo. A quel punto ho visto il pazzo Sogni, questo film diciamo ruota attorno al punto di vista principale che è Lucio e diciamo Lucio è un sognatore, è una persona che ha dovuto riporre sui soli in un cassetto ma nonostante ciò continua a sognare. Quindi quando ho visto questo edificio qua ho pensato che potesse essere il setting perfetto per farne la casa per la vista che poi è quello che è diventato. E' meraviglioso un po' perché essendo un paese piccolo si ha tutti un po' la sensazione di stare quasi dentro una forma, una specie vicine città. Sembra di stare tutto che sia tutto un piccolo set e quindi questo ha dovuto anche ad avvicinare le persone che lavorano a creare un effetto squadra. Uno finisce ripreso e poi si ritrova, non so, al mitico bar centrale della Paola che non è mai diventato un totem. In generale riconosce il territorio e sei un po' dentro una bomba e quindi io dobbia trucciare un film questo aiuti molto perché è un lavoro di squadra. E quindi se uno riesce a creare l'effetto squadra le cose vanno sempre in maniera più liscia. Grazie.